Icona Laser LED VCL 808 nanometri 1200 Watt, laser LED di nuova generazione per un'epilazione permanente. L'epilazione definitiva è diventata una realtà grazie all'icona laser LED, questo avanzato dispositivo sfrutta la tecnologia più recente per garantire risultati ultimali in tempi ridotti, adatto a tutti i tipi di pelle e di pelle. Icona Laser LED utilizza una sorgente luminosa LED con 12 chip superluminescenti, capaci di erogare una potenza massima di 1200 Watt. Questa potenza permette al dispositivo di penetrare efficacemente la pelle e raggiungere direttamente la radice del follicolo pilifero, riducendo in modo significativo la crescita dei peli. Uno dei punti di forza dell'icona Laser LED è la dimensione del punto luce, pari a 18 x 24 mm. Questo consente di coprire ampie aree di pelle in modo rapido e omogeneo, riducendo i tempi del trattamento senza comprometterne l'efficacia. Il riscaldamento tridimensionale contribuisce a un migliore effetto termico, aumentando la percentuale di successo in ogni trattamento, Icona Laser LED è progettato per durare nel tempo. Con una vita utile di 50 milioni di shock, questo dispositivo può funzionare ininterrottamente per 24 ore, rendendolo ideale per centri estetici con un alto volume di clientela. Icona Laser LED è estremamente versatile, adatto a tutti i tipi di pelle e peli, grazie alla possibilità di regolare la fluenza da 0 a 40 Joule per centimetro quadrato. Il dispositivo è dotato di un sistema di rattregamento a liquido con temperatura regolabile, che rattrega l'area trattata prima, durante e dopo l'emissione del laser.